dei deputati Bonafede ed altri, concernente chiarimenti in merito alla partecipazione del Ministro dell'Interno alla manifestazione nazionale organizzata dal Popolo della Libertà a Brescia l'11 maggio 2013. Chiedo all'onorevole Bonafede se intende illustrare la sua interpellanza o se si riservi di intervenire in sede di replica. Grazie Presidente, illustro l'interpellanza. Presidente, colleghi, sottosegretario, premesso che a seguito della condanna del senatore Berlusconi ha quattro anni di detenzione e cinque di interdizione dei pubblici uffici per frode fiscale nell'ambito del processo sui diritti TV Mediaset, confermata in data 8 maggio 2013 dalla Corte d'Appello di Milano, nonché della successiva richiesta da parte della Procura di Napoli di rinvio a giudizio per corruzione e finanziamento illecito ai partiti per la cosiddetta compravendita di senatori, sabato 11 maggio a Brescia si è svolta una manifestazione nazionale organizzata dal Popolo della Libertà, abbinata ai comizi elettorali per la tornata elettorale amministrativa del 26 e 27 maggio ultimo scorso, recante il titolo Tutti con Silvio, viene anche tu, la quale, secondo una nota ufficiale dello stesso Popolo della Libertà, invitava il partito a scendere in piazza in difesa di Silvio Berlusconi. Durante il corso di tale manifestazione il senatore Berlusconi, dicendosi amareggiato per l'assedio e la violenza dell'ultima settimana contro la propria persona, ha espressamente accusato lo Stato della giustizia di calpestare il diritto alla libertà dei cittadini, nonché di intervenire nella vita democratica del Paese per eliminare politicamente lo stesso senatore Berlusconi. Conseguentemente l'Italia sarebbe ormai un Paese malato, una democrazia malata. A tale manifestazione è aderito il segretario del Popolo della Libertà, ministro in indirizzo, nonché vicepresidente del Consiglio dei Ministri, preannunciando altresì la propria partecipazione attraverso il tweet «Oggi pomeriggio a Brescia, tutti a fianco al presidente Berlusconi». Ricordato che in data 28 aprile 2013 il ministro in indirizzo, nonché vicepresidente del Consiglio dei Ministri, ha prestato giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica, ricoprente anche la carica di Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, pronunciando la seguente formula rituale indicata all'articolo 1,3 della legge 400 dell'88. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione, che in base al Decreto legislativo 30 luglio 1999, numero 330, tra le principali funzioni attribuite al Ministero dell'Interno vi è quella di assicurare la tutela dell'ordine, della sicurezza e coordinamento delle forze di polizia. Premesso che in virtù dell'articolo 101 e 104 della Costituzione la giustizia è amministrata in nome del popolo, i giudici sono soggetti soltanto alla legge e la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Considerato che la spontanea presenza di una personalità investita di così rilevanti e delicati incarichi istituzionali sul palco di una manifestazione impropriamente ma esplicitamente finalizzata a difendere il singolo imputato, Senatore Berlusconi, è già di per sé chiaramente inopportuna, che tale inopportunità si palesa con incontrovertibile evidenza se si considera in particolare che sul palco in questione si assisteva alla paradossale enunciazione di slogan tipici di un comizio di partito indirizzati contro l'attività costituzionalmente regolata e garantita di magistrati impegnati nello svolgimento delle proprie funzioni pubbliche, che in virtù di quanto poco anzi esposto nascono fondati dubbi in capo alla capacità del Vice Premier e Ministro di Indirizzo di poter ricoprire in osseguo al ricordato giuramento i propri incarichi istituzionali in seno all'esecutivo dell'esclusivo interesse della Nazione, che la principua funzione del Ministero dell'Interno relativa alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica non può prescindere da un indispensabile, leale ed efficiente coordinamento con l'autorità giudiziaria, quest'ultima tuttavia sostanzialmente delegittimata dallo stesso Vice Premier e Ministro in Indirizzo, che in qualità di Segretario del Popolo della Libertà non può che considerarsi il principale ideatore responsabile della citata manifestazione a difesa dell'imputato senatore Berlusconi nei confronti del sistema giudiziario italiano. Considerato che, ai fini della prassi parlamentare, la presente interpellanza urgente fa seguito ad una tempestiva richiesta del gruppo parlamentare alla Camera del Movimento 5 Stelle di ricevere un'informativa urgente del Vice Premier e Ministro in Indirizzo su quanto accaduto a Brescia, informativa mai avvenuta per l'indisponibilità sin cui manifestata dal Governo a riferire sul punto al Parlamento. Tutto ciò premesso e considerato, si chiede al Ministro in Indirizzo se condivide le valutazioni espresse dal senatore Berlusconi durante la ricordata manifestazione, alla quale il Ministro ha convintamente aderito, secondo le quali lo Stato della giustizia calpesta il diritto alla libertà dei cittadini, dando per tanto luogo ad un Paese malato una democrazia malata. Se non ritiene che la propria spontanea adesione e partecipazione ad una manifestazione organizzata in contrasto ad un potere dello Stato costituzionalmente garantito sia incompatibile con l'obbligo di terzietà, propedeutico e discendibilmente connaturato al giuramento di fedeltà alla Repubblica di leale osservanza della Costituzione e delle leggi e di esercizio delle proprie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. Presidente, il comizio che ha avuto a luogo a Brescia sabato 11 maggio si inserisce nell'ambito delle manifestazioni indette dal popolo della libertà a sostegno del proprio candidato alla carica di sindaco della città lombarda. Vorrei da questo punto di vista ricordare che parliamo di una tornata elettorale che riguardava soltanto esclusivamente amministrazioni comunali. Parliamo quindi di una tornata elettorale dove non c'erano coinvolte assemblee legislative, quindi non soltanto elezioni politiche ma anche elezioni per il rinnovo di consigli regionali, ma soltanto elezioni e una tornata elettorale in tutto il Paese che riguardava esclusivamente il livello comunale. Del resto, nella stessa giornata, altre iniziative di partito si sono svolte con la partecipazione di esponenti di governo. Il significato elettorale della manifestazione di Brescia del resto è reso palese senza alcun dubbio dalle stesse forme esteriori che lo hanno caratterizzato, ampiamente documentate dai mass media. La presenza dell'On. Alfano, Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'Interno, è dunque da ascrivere in tutta evidenza al suo ruolo di segretario politico dello stesso partito organizzatore di una manifestazione per il rinnovo del Consiglio comunale e del sindaco di quella città. Ciò premesso, nel corso dell'evento, il Presidente del Partito del Popolo della Libertà, Senatore Silvio Berlusconi, ha espresso proprie considerazioni su una vicenda giudiziaria che lo riguardava quanto alla presenza dell'On. Alfano ad una manifestazione di carattere partitico in cui è stata affrontata per una minima parte di intervento molto più lungo ed articolato una questione della quale, come dire, l'interrogante ha ricordato comunque anche la complessità e l'importanza rispetto alla vita del Paese, appunto la presenza dell'On. Alfano a questa manifestazione, bene ricordarlo, è stata, come dire, una manifestazione non da protagonista, non ha esternato, non ha fatto interventi, ma era lì in qualità di segretario del partito. E quindi è doveroso fare una pacata riflessione, riflessione peraltro che nei giorni successivi si è aperta la luce del sole, in termini pubblici, all'interno della maggioranza e dello stesso Governo, incentrandosi sempre sulla scelta, ma non certo sul diritto di partecipare o meno all'evento. L'assunzione di responsabilità di Governo comporta senz'altro obblighi istituzionali di terzi età, ma non può rappresentare una limitazione delle proprie convinzioni politiche, riducendone o addirittura annullandone ogni libera forma di espressione. Il deputato Alfonso Bonafiedi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interpellanza. Sottosegretario, la ringrazio per la disponibilità. Vorrei tanto poter pronunciare con serenità la frase di Rito, non mi ritengo soddisfatto della sua risposta, ma questa frase non riesce ad esprimere il senso di reale insoddisfazione che, sono certo, non è solo mia, ma anche di tanti italiani. La sua è una risposta che chiaramente sminuisce il desiderio di tanti cittadini di sapere, una volta per tutte, quante le istituzioni di questo Paese siano ancora drammaticamente legate alle sorti giudiziali personali del senatore Silvio Berlusconi. I cittadini che chiedono una risposta a questa domanda sono tanti e sono gli stessi a cui il Governo chiede quotidianamente di fare sacrifici perché l'Italia tutta possa rialzarsi. Sono gli stessi cittadini che pagano le tasse nella convinzione che un giorno, non loro, i cittadini non sono così ingenui, ma almeno i loro figli potranno credere seriamente che i soldi pagati con le tasse si tradurranno in welfare. Infine, sono quegli stessi cittadini che subiscono sempre più inermi i tempi della giustizia civile e penale, ma che non penserebbero mai, neppure nel loro peggiore incubo, di sottomettere e subordinare l'Italia alle proprie personali sfortune. E lei, signor Sottosegretario, cosa risponde oggi? Ci dice che la manifestazione era un comizio elettorale in cui veniva sostenuto un sindaco uscente. Insomma, utilizza uno scudo pseudoformale, meglio un cavillo propagandistico, dietro cui è possibile immaginare che un ministro possa servire e contestualmente attaccare le istituzioni di questo Paese. La magistratura in Italia, come in tutto il mondo, è un pilastro della democrazia. Ma voi promettete una speranza di futuro in cui l'Italia potrà rialzarsi, ma in realtà è indicato un diversivo che induca i cittadini a guardare oltre le nefandezze di questa classe politica. E mentre lo fate, nello stesso istante in cui il cittadino è disposto per l'ennesima volta a fidarsi di voi, minate le colonne portanti, già precarie, su cui poggia il tempio della democrazia italiana. Quello che vorrei fosse chiaro è che questa interpellanza non ha nulla a che vedere con il senatore Berlusconi e con i suoi processi, perché i suoi processi non hanno nulla a che vedere con quest'Aula e con l'istituzione che tutti noi abbiamo il dovere e l'onore di custodire e rappresentare. Questa interpellanza riguarda il ministro Alfano e la sua capacità di concepire il proprio ruolo al di là e al di fuori delle logiche del partito. Riguarda la sua capacità nel corso del suo incarico di governo, di guardarsi allo specchio e di vedere il ministro dell'interno e non il segretario del partito di Silvio Berlusconi. In occasione dei fatti di Brescia, il ministro ha avuto modo di affermare che il PDL non abbassa la sua bandiera, non prevede nessun appiattimento della sua politica e continua a stare accanto al suo leader Berlusconi. Io vorrei ricordare al ministro che ha l'obbligo di non sventolare più alcuna bandiera che non sia il tricolore italiano. Quante volte dovremmo ancora sentir parlare da parte del PDL di guerra civile, di toghe rosse, di guerra dei vent'anni? E per favore basta con lo slogan secondo cui i giudici con le sentenze non rispetterebbero i milioni di italiani che hanno votato Berlusconi. Ma qual è il concetto di democrazia che avete? Qual è il concetto di democrazia a cui fa riferimento il ministro Alfano? Vi riempite la bocca di parole come riforma e date vita a finti dibattiti tra presidenzialismo e semipresidenzialismo, ma la verità è che non c'è alcuna forma di democrazia moderna in cui il voto dei cittadini possa essere utilizzato come strumento per sottrarsi alla giustizia. Noi rispettiamo le decisioni del popolo, siamo portatori di un messaggio culturalmente rivoluzionario ed autenticamente riformista che pretende una democrazia dal basso i cui protagonisti siano i cittadini, siamo pronti a lottare con tutte le nostre forze perché la sovranità torni effettivamente al popolo italiano. Ma questo non c'entra esattamente nulla con la campagna propagandistica a cui siamo costretti ad assistere quotidianamente. Noi pretendiamo che quella propaganda non passi attraverso la voce di un ministro della Repubblica italiana che ha giurato di esercitare le sue funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. Noi lo pretendiamo perché è la Costituzione che lo pretende. Chi oggi afferma costantemente che la Costituzione va cambiata dovrebbe prima di tutto comprendere, per essere credibile, che la Costituzione va rispettata nella sua laica sacralità, in ogni suo articolo, anche nell'affermazione dell'articolo 104, secondo cui la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Altrimenti sorge il dubbio legittimo che chi vuole cambiare la Costituzione vuole in realtà servirla alle proprie contingenti esigenze. L'articolo 104 non è un errore di battitura, è più semplicemente una dell'espressione del principio della separazione dei poteri che è alla base di tutte le democrazie moderne. Montesquieu, il padre di quel principio, nel 1748 fondava la sua teoria sull'idea che chiunque abbia potere è portato ad abusarne. Egli arriva sin dove non trova limiti. Perché non si possa abusare del potere, occorre che il potere arresti il potere. Per concludere, sottosegretario, io la ringrazio per la disponibilità, ma alcolgo l'occasione per ribadire con forza che il Movimento 5 Stelle continuerà a considerare inaccettabile la partecipazione di Ministri della Repubblica in manifestazioni in cui sono attaccate, anche solo a fini propagandistici, organi e poteri costituzionali. Ove tali comportamenti dovessero ripetersi, il Movimento 5 Stelle vaglierà attentamente la facoltà di sollecitare una mozione di sfiducia individuale. Noi abbiamo il dovere oggi di coltivare il sogno di un Paese capace di rialzarsi non solo come economia, ma anche come democrazia. Un Paese in cui un giorno un Ministro della Repubblica, incontrando un parlamentare coinvolto in processi, potrà dirgli che il Parlamento italiano è troppo impegnato a pensare al futuro dei cittadini, per pensare alle sorti del processi di un singolo cittadino.